... Sapevo di certi miei parenti in Svezia, ma non di questa Annie... Annie Olsen. Suo figlio e tutti gli altri ragazzi morirono fino agli ultimi giorni. Lei disse nella convinzione di poterlo vedere. Chi è? Italia 7, in prima tv, le voci del silenzio. Domani, 20 e 30. Dai TVA è in corso l'operazione più forte dell'anno. Guardate queste immagini. Vi piacerebbe passare sette giorni di vacanza a Madonna di Campiglio, Tenerife o Costa del Sol? Sette giorni di vacanza gratis in splendida residence a 5 stelle. Questa è l'occasione che i TVA vi offre in collaborazione con Sony, Kenwood, Mitsubishi, Seleco, Akai, Love, Kato e Miller. Non è un concorso, non c'è alcuna estrazione. La settimana è gratuita. Basta acquistare uno dei prodotti che partecipano all'iniziativa. Ecco alcuni esempi. Videoregistratore Mitsubishi, tre testine, telecomando 630.000. TV Color Sony 21 pollici con telecomando 898.000. Lavatrice Castor 498.000. Potete scegliere tra tantissimi articoli di otto grandi marche e pagarli anche a 50.000 al mese. Sarete voi a decidere dove e quando andare. Vi aspettiamo. Dai TVA, via Padova 95 e via Melchiorgioia 63, Milano. Buongiorno signora. Benvenuta da Prius. Qui può provare con tranquillità il meglio del prema non firmato. Certo signora, c'è tutto anche per suo figlio. Siamo specialisti in fuoricoltura. Solo la qualità ci dà sicurezza. Anche a lei? Allora troverai interessanti le offerte complesse a partire da 700.000 via. La consegna a domicilio è sempre gratuita. Grazie signora, i complimenti fanno sempre piacere. Il tuo bambino? Trattalo da Prius. Nuova balassina 334, Lissone. Vieni anche tu. Scegliere è sempre una festa. RB Arredamento. Quel valore in più. For the shoot shoot song. grey. E il tuo bambino? Per il suo bambino? Yeah. Lui. Cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.